Pallanuoto, vigile importante per l'Ortigia, Salerno partita decisiva per le finali Scudetto. Vigile importante per l'Ortigia che oggi parte per Salerno dove domani pomeriggio alle 15 in diretta streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo affronterà i campani di Mister Citro in una partita decisiva per continuare la corsa verso l'accesso alle finali Scudetto. Dopo le due sconfitte consecutive con Savona e Brescia gli uomini di Piccardo che ritrova Mirarchi, Abela e Francesco Condemi sono chiamati a fare bottino pieno per rimanere agganciati al Savona e giocarsi la qualificazione nel prossimo turno di campionato proprio contro i Liguri il 30 aprile a Siracusa. All'andata contro i Campani l'Ortigia si impose nettamente per 13 a 5 in quella che finora rimane l'unica vittoria bianco-verde di questa seconda fase a Girone. Giacoppo e compagni in queste settimane hanno lavorato molto per ritrovare quella condizione che ha permesso all'Ortigia di disputare una prima parte di stagione superlativa e che oggi serve per poter affrontare al meglio questa fase decisiva con tutti gli obiettivi ancora in gioco. In casa Ortigia prima della partenza l'attaccante Sebi di Luciano parla delle condizioni della squadra. Ci siamo allenati intensamente durante questa settimana aumentando i carichi di lavoro. La partita di Salerno è fondamentale per noi. Abbiamo un unico risultato a disposizione per cercare di credere ancora nel sogno della finale Scudetto sapendo che poi dovremmo provare a fare il colpaggio in casa contro Savona. Prima di pensare ai Liguri però abbiamo bisogno di battere Salerno e portare a casa questi tre punti. Noi nella possibilità di raggiungere i nostri obiettivi crediamo ancora perché sappiamo che ogni partita è nelle nostre corde che abbiamo le potenzialità per giocarcela con chiunque. Pertanto da qui in avanti disputeremo ogni match cercando i tre punti sia in campionato che in Champions perché ancora nulla ci è precluso matematicamente e quindi dobbiamo andare avanti così con questo pensiero a guidarsi a partire da domani. Il mancino Valentino Gallo pone l'attenzione sul ciclo di partite importanti che l'Ortigia dovrà affrontare siamo attesi da un mese di fuoco dove giocheremo più partite questo potrebbe essere un bene perché a noi fanno male le lunghe pause fino a dicembre stavamo in palla perché le gare si erano intensificate noi avevamo ritmo partita, eravamo in fiducia poi lo stop di due mesi e mezzo e le poche partite ci hanno ucciso sotto ogni punto di vista ora potremo finalmente ritrovare il ritmo cominciare con il Salerno è positivo perché è una squadra ostica da affrontare fuori casa un buon test prima di questo tour de force che ci aspetta dove ci giochiamo tutta la stagione Gallo spiega poi il tipo di prestazione che l'Ortigia dovrebbe fare per poter ritrovare fiducia dobbiamo fare una partita cinica e fisica giocata senza paura di spendere energie ma sempre mantenendo una disciplina tecnico-tattica che ci consenta di non prendere contropiedi dobbiamo fare una partita dispendiosa di quelle che portano a dare e creare tanto cercando di subire pochi gol e di farne qualcuno in più rispetto a quanto avvenuto nelle ultime gare un tipo di match simile potrebbe essere il segnale capace di dare una svolta per le prossime gare sugli avversari il Mancino Seracusano ritiene di non dover dire molto convinto che il destino dell'Ortigia dipenda solo dall'Ortigia dobbiamo guardare solo a noi stessi perché siamo noi la chiave la risposta che cerchiamo ce l'abbiamo noi bisogna parlare poco degli altri e concentrarci sul nostro lavoro ritrovando la forma fisica che non abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo per provare a dare una svolta e recuperare la grinta che ci è mancato ultimamente dobbiamo cercare di avere sempre il controllo del gioco di rischiare poco in difesa fare quello che sappiamo fare con ordine e disciplina dove ciascuno fa il suo come dei soldatini le volte in cui abbiamo giocato così con ciascuno a svolgere il proprio compito abbiamo sempre fatto bene